Una giornata importante che segna 20 anni della creazione dell'associazione GAR e una giornata importante perché lo statuto è stato modificato per fare in modo di estendere in maniera illimitata la durata della vita di questa associazione questo per dare continuità e sostenibilità a tutte le grandi e importanti azioni che stiamo andando a mettere in campo con il dispiegamento della rete progettata nel progetto GAR-T è una giornata per me ancora più particolare che affronto come neodirettrice del Consorzio GAR e quindi che mi vede impegnata in prima persona da qui in avanti in questa azione importante del progetto GAR-T ma anche nell'accogliere nella compagine associativa nuove istituzioni in particolare quelle delle discipline biomediche che complementano il quadro complessivo dei soci fondatori, aderenti che via via nel tempo si sono aggiunti a GAR riconoscendo collegialmente che una infrastruttura unica su tutto il territorio nazionale per la comunità dell'istruzione, dell'accademia, della cultura e della ricerca è un bene pubblico a disposizione per far crescere non solo queste attività ma il paese con l'impatto che queste attività possono avere grazie grazie